Gara 3, coach Stefano Raiola, Annardò, primo match point. Sì, ci stiamo preparati, abbiamo cercato di soprattutto ricoprire le energie fisiche e nervose perché per giocare queste partite bisogna innanzitutto recuperare le energie fisiche ma anche quelle nervose. Dobbiamo sapere che si riparte da 0-0, loro proveranno a fare di tutto per vincere le partite, hanno una grande carica dal loro pubblico e noi dobbiamo farci trovare pronti sia dal punto di vista tecnico, tattico e anche sapendo che troveremo un ambiente molto caldo, molto caloroso, un bellissimo pubblico quindi sarà doppiamente difficile la cosa. Partite da favoriti per un semplice fatto Stefano, quattro partite giocate contro Annardò, quattro vittorie. Al di là di questo, Annardò che hai visto nella serie play-off con Pescara, dove dovete essere molto bravi e attenti? Allora, come ti ho detto martedì sera, Annardò, secondo me, in ultimi due o tre mesi del campionato ha svoltato la sua stagione, ha aggiustato la squadra ed è diventata, secondo me, una squadra assolutamente di primissima fascia, di primi tre o quattro posti. Lo ha dimostrato nelle due partite che ha giocato la noi perché noi per vincere abbiamo fatto due grandi partite. Dobbiamo continuare a fare così, ci saranno situazioni tecnico-tattiche che abbiamo analizzato e che proveremo a sfruttare. Non ci dire nulla, va bene. Naturalmente anche loro proveranno a sfruttare le loro cose. Sarà comunque anche una battaglia di chi ha più resistenza dal punto di vista nervoso, dal punto di vista fisico perché incominciamo ad arrivare alla terza partita in cinque giorni, quindi anche questo è un aspetto molto importante. Grazie.